In A1 ci sono 3 km di coda per incidente tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, code tra il Bivio per la 11 e Firenze Scandicci e code in uscita a Firenze Scandicci e Firenze Sud. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Versiglia e la dinamazione via Reggio Lucca in direzione Rosignano. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa, sulla FIPILI coda in uscita a Lastrasigna e ralentamenti in entrambe le direzioni tra Lastrasigna, Firenze e Scandicci. Oggi è in atto uno sciopero nazionale dei trasporti, tutte le informazioni attraverso i nostri canali social e il canale Telegram di Muoversi in Toscana. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!